I carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno svolto un'operazione contro le infiltrazioni dell'Andrangheta tra il Lazio e la Calabria. Nove le persone le quali stanno notificando un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla GIP del Tribunale di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Nell'ambito dell'operazione ci sono state anche numerose perquisizioni e sequestri di beni nei comuni di Roma, Tivoli, Guidonia, Montecelio, Castelnuovo di Porto, Africo Nuovo e Bovalino, queste ultime nella provincia di Reggio Calabria. Per quattro dei nove indagati destinatari delle misure cautelari, tutti di nazionalità italiana, l'accusa è di far parte a vario titolo di un'associazione per delinquere operante nella provincia di Roma, finalizzata allo spaccio di stupefacenti provenienti dalla Calabria con l'aggravante della disponibilità delle armi dell'impiego di minorenni nell'attività di spaccio e di aver raggevolato l'attività dell'Andrangheta con articolazione operante in Calabria e nel Lazio per il controllo delle attività illecite sul territorio.